Anticipazioni shock di Endless Love. Nella puntata di giovedì 12 settembre, Tariq è sull'orlo del baratro. Schiacciato dai debiti, si trova costretto a prendere una decisione disperata. In un tentativo estremo di evitare il fallimento, si affida a persone pericolose e poco affidabili. La situazione precipita quando si imbatte in Ayan, che sfrutta senza scrupoli il legame di sangue per cercare di raggiungere Kemal. Il destino di Tariq è ormai in bilico, cosa sarà disposto a fare per salvarsi? Galip tenta di proteggere Asu, che è stata obbligata da Emir a siglare un patto, ma la donna nutre una profonda sfiducia verso tutti i kosquoglu. Asu è anche sotto la pressione di Feime, che insiste perché lei e suo figlio si sposino. Kemal sospetta che Deniz sia sua figlia, ma Nian non vuole che lo scopra e, ovviamente, nemmeno Emir. Determinato a verificare se è il padre della bambina, Kemal si prepara a fare un test del DNA. Intanto, durante una cena con i suoi genitori, sua sorella Zeynep e Asu, Kemal accusa Zeynep di aver causato il suicidio di Ozan. Zeynep è devastata dalle accuse. Asu, dal canto suo, scoppia in lacrime realizzando che Kemal sta posticipando il loro matrimonio. Quando Asu chiede il motivo, Kemal ammette che vuole prima accertarsi di essere padre. Alla cena irrompe Tariq, visibilmente ubriaco e disperato. Annuncia di essere rovinato e di non sapere più come uscire dalla morsa degli usurai. Kemal decide di aiutarlo ma lui rifiuta. Tariq, infatti, pensa di essere in quella situazione solo perché Ayan vorrebbe umiliare Kemal facendo in modo che si presenti da lui a perorare la causa del fratello. Ayan attende in vano l'arrivo di Tariq. Nian arriva all'ospedale con Denise febbricitante, accompagnata da Kemal. Quando il dottore che la visita dice che potrebbe essere necessaria una trasfusione da uno dei genitori, il gruppo sanguigno di Nian non corrisponde. Kemal, che crede di essere il padre di Denise, chiede spiegazioni e il dottore, mentendo, dice che il gruppo della bambina è ORH negativo. Cosa ne pensi di questo? Fammi sapere nei commenti. Sopraggiunge Emir, che di fronte al favore fatto a Nian e la bambina, ringrazia Kemal nonostante i dissapori e lo congeda. Deluso e sconcertato, Kemal va da Asu e fissa con lei la data del matrimonio. Più tardi, Nian va su tutte le furie scoprendo che Emir, complice il medico, ha provocato artificialmente la febbre alla bambina per poter far sapere in questo modo a Kemal che non ne era il padre. Nian incontra Kemal nel cantiere della scuola e scopre che l'uomo ha deciso di far dedicare a Ozan il dormitorio. Nian si infuria e lo aggredisce. Non sarà un cartello in onore di Ozan a lavare le colpe che lei gli attribuisce. Ma Kemal, determinato a ricomporre la vera dinamica che ha portato Ozan alla morte, incarica la ex guardia carceraria Omer, suo prigioniero, di procurargli la registrazione della telefonata fatta da Ozan prima del suicidio. Sitki, a sua volta nel covo, prima implora a Kemal di liberarlo dalla prigionia e poi corre da Emir a spifferargli le intenzioni di Kemal. Emir così lo incarica di anticipare le mosse del nemico, procurando a lui quella registrazione. Kemal poi arriva senza annunciarsi a casa di Tufan e si fa dare le foto che ritraggono il bacio tra Emir e Zeynep. Akan, preoccupato per suo fratello Safak, chiede a Emir di licenziarlo, ma l'uomo si rifiuta. Ha salvato la vita del ragazzo pagando per la sua operazione chirurgica e ora riscuote il suo credito. Se vuoi il continuo della storia scrivi in sì. A presto. Iscriviti al canale e se ti va lascia un bel mi piace.